Visto il clamoroso successo che hanno fatto i due video precedenti sulle 13 app di intelligenza artificiale e quindi siamo arrivati a 26, ho deciso di farne un terzo e trasformarli in una trilogia anche perché non lo state chiedendo tutti quanti. Quindi oggi vi beccate altri 13 siti e app pazzeschi di intelligenza artificiale e vi prego, rimanete fino alla fine perché l'ultimo vi farà saltare dalla sedia. Io sono Raffaele Gato e ti do il benvenuto. Oltre 15 anni di esperienza come imprenditore nel digitale e qui sopra aiutò le aziende e le persone a far crescere il loro business e il loro mindset. Se ti interessano questi argomenti seguimi su YouTube e su Instagram per altri contenuti. Iniziamo come sempre a bomba con il primo tool che si chiama Waymark. Ovviamente tutti i link li trovate qui sotto in descrizione, non vi preoccupate. Entriamo nella categoria di tool di AI che generano video. Ce ne sono tantissimi in circolazione, sono anche molto molto belli però Waymark secondo me merita una menzione. Perché? Perché pensato proprio per l'utilizzo business. Quindi chi di voi fa business lo potrebbe utilizzare, potrebbe essere molto molto utile. Cosa fa? Vi crea delle pubblicità con un click. Voi gli mettete l'indirizzo del vostro sito, gli descrivete un po' di cosa vi occupate, cliccate e lui prende informazioni in giro su quello che è il vostro business, le mette insieme e vi genera un video. Che poi ovviamente potete controllare, approvare, scaricare e utilizzare per le vostre pubblicità. Assolutamente da provare. E sul sito ci sono una valanga di esempi interessanti da guardarvi. Il secondo è Google Bard. Ormai sto parlando da mesi qui sopra della battaglia che c'è tra Microsoft e Google nel mondo dell'intelligenza artificiale. Microsoft lo sta facendo in maniera scaltra, ha investito in OpenAI e poi si integra i suoi prodotti come ChatGPT e da lì. Invece Google si sta sviluppando le sue cose. Qualche tempo fa ha rilasciato Google Bard, che è un po', se volete, la risposta a ChatGPT. Quindi è il chatbot in casa Google, con in più il fatto che può accedere a internet, con il fatto che lo stanno integrando con gli altri prodotti di Google, ma al momento, secondo me, è nettamente inferiore rispetto a ChatGPT, almeno rispetto alle cose che ci ha abituato, alla potenza che ci ha abitato ChatGPT. Se volete approfondire sul mio canale YouTube, trovate una bella demo completa di Google Bard, dove vi faccio vedere tutte le cose che si possono fare con questo strumento di Google. e, tra l'altro, sono stato il primo in assoluto a pubblicare una demo in Italia e, credo, anche il primo a pubblicare in assoluto una demo al mondo. Quando l'ho pubblicata non c'era nemmeno una. E sempre su Google Bard, sul mio canale YouTube trovate anche un bel confronto tra ChatGPT e Google Bard, per vedere un pochino quali sono le differenze. Passiamo ora a uno strumento invece per generare immagini. Anche qua abbiamo tantissime alternative, alcune le abbiamo già elencate nei video precedenti, da lì, midi giorni, eccetera, eccetera, ma una menzione va assolutamente a Firefly. Firefly è un po' un competitor di questi strumenti, dei vari da limiti, giorni, eccetera, eccetera. A me piace tantissimo. È stato realizzato da Adobe, quelli che fanno Photoshop, che fanno Illustrator e così via, e vi devo dire la verità. Secondo me si vede che è un prodotto che è stato sviluppato da Adobe, che sta in questo settore da decenni, che lavora in questo mondo, delle immagini veramente da una vita, perché rispetto agli altri programmi è veramente un approccio molto molto più usabile, è un'interfaccia ben fatta e così via. Quindi non si deve essere uno smanettolo, non si deve essere un esperto per ottenere dei risultati decenti su Firefly. E questa, secondo me, è una differenza fondamentale. Eppure di Firefly, sul mio canale YouTube trovate una bella demo dove vi faccio vedere le tre funzionalità che sono attive in questo momento, che in realtà ce ne sono tantissime, che però rilasceranno nei prossimi mesi. Il quarto tool è pensato per tutti quelli che lavorano con la scrittura. Si chiama Copy, copy.ai, ed è un chatbot che si occupa soprattutto di realizzazione di testi. Quindi immaginatevi una sorta di chat GPT, però pensato solo sulla generazione di contenuti testuali. No? Quindi proprio pensato per chi lavora con articoli di blog, newsletter, contenuti social, eccetera eccetera. Questo potrebbe essere molto utile ad alcuni di voi nel vostro lavoro. Loro sul sito dicono di avere oltre 8 milioni di clienti, che a me sembrano tantissimi, però dicono di lavorare con Microsoft, con eBay, con Nestlé e con tanti altri colossi. Quindi se fate contenuti, dategli un'occhiata. Il quinto tool si chiama Ora. Si chiama proprio così, Ora, O-R-A. Credo si pronunci Ora, non lo so. Il link è qui sotto in descrizione, non vi preoccupate. Ora.ai. Ed è un'intelligenza artificiale per crearvi la vostra intelligenza artificiale. Lo so che sta iniziando a diventare complicato, ma inevitabilmente la direzione alla quale stiamo andando è questa qua. Si sapeva, no? Che iniziavano a creare questa meta AI. In realtà, diciamo, smanettandoci un pochino, quello che scoprite è che è come se fosse un'enorme raccolta, un'enorme database di persone che creano dei mini chatbot verticali specifici su una sola cosa. Io ce l'ho smanettato un pochino, ce ne sono tantissimi. Potete creare il vostro, potete partire da un chatbot che già esiste e ve lo modificate, o potete smanettare con quelli che ci sono sulla piattaforma. E sta crescendo tantissimo. Ad oggi ho oltre 300.000 iscritti e mi sembra che siano stati creati oltre mezzo milione di chatbot. Anche il prossimo tool va nella stessa direzione, si chiama Kodi e vi consente di creare il vostro assistente per il vostro business. Però è molto diverso rispetto a ora, perché ora, che strano pronunciarlo così, ora va più verso il cazzeggio, almeno così mi sembra di capire dai test che ho fatto un pochino, invece Kodi, proprio per un uso professionale, cosa serve? Loro vi dicono di caricare tutti i vostri documenti aziendali, tutte le vostre presentazioni, PDF, tutto materiale che avete, manualistiche, eccetera, eccetera. E da quel momento in poi Kodi diventa una sorta di chat GPT che però conosce benissimo la vostra azienda, no? Perché se ha letto tutta la documentazione, ha acquisito tutta quella conoscenza su di voi, il vostro business, il vostro passato, eccetera, eccetera, quindi da quel momento in poi diventa un chatbot che vi aiuta e che sa tutto della vostra azienda. Quindi, che ne so, vi rispondo alle vostre domande, vi tira fuori documenti, email, date, persone, contratti, vi dà dei link, vi genera idee, fa brainstorming con voi e così via. Anche questo, secondo me, potrebbe svilupparsi in modo veramente interessante in futuro. Il tool numero 7 si chiama Mixo con la X ed è una suite, la definirei, di strumentini di AI per il lancio di una startup. Quindi è molto, molto verticale su quella roba lì. Se state lanciando un'idea, loro cosa dicono? Hai un'idea ma non l'hai ancora messa in piedi, sei ancora in alto male con Mixo, puoi fare tutto velocizzando tantissimo i tempi. Per esempio, vi fa cose come vi crea il sito web e ve lo fa con un click, vi tira fuori tutto il sito web della vostra startup, vi raccoglie tutti i feedback dei vostri clienti in un'unica piattaforma, vi gestisce la parte di lead generation, si integra con gli analytics, eccetera eccetera. Se andate sul sito trovate una valanga di funzionalità, integrazioni e così via. Quindi se avete un'idea, siete in fase embrionale, questo potrebbe velocizzarvi tantissimo. Siamo al sito numero 8 e si tratta di Soundrow. I link, come sempre, sono qui sotto in descrizione. Questo è un AI che vi genera musica. Abbiamo già parlato di qualcosa di simile nei video precedenti, però questo lo trovo estremamente potente. In pratica, a cosa serve? Se avete bisogno di musica per i vostri contenuti su YouTube, perché avete un podcast, perché state sviluppando un videogioco, che ne so, qualsiasi cosa state facendo e vi serve della musica, loro dicono non andartela a comprare, genera la tela tu. Quindi ti generi delle tracce che sono royalty free e puoi farne l'utilizzo che vuoi. È facilissimo farlo, gli dite il genere, gli dite il mood, gli dite la durata, con un click. Avete la vostra bella traccia da utilizzare dove volete. Il nono sito è Kyber e questo, why you, è veramente uno spettacolo. Vi crea delle animazioni, dei mini video. Non saprei come descriverli, perché molta di questa roba è talmente nuova che non c'ho manco le parole per descriverlo. Anzi, loro sul sito dicono trasforma le tue idee in storie visuali visuali e fa proprio questo, fa queste mini storie visuali veramente bellissime, bellissime, cioè potete scrivere cose tipo voglio un robottone gigante in stile manga che calpesta i grattacieli di New York, che ne so, oppure voglio un lupo gigante che di notte si aggira in una foresta buia illuminata solo dalla luna e così via. E lui ve li genera, però parole non posso descriverle. Andate sul sito, vedetevi le demo che ci sono perché alcune sono veramente, veramente mozzafiato. Il decimo sito a me fa un po' paura, ve lo confesso. Si chiama Rewind e loro dicono di sostituirsi alla nostra memoria. A me ricorda un po' una roba alla Black Mirror, devo dire la verità, e poi io sono proprio smemorato, quindi quando l'ho letto a me è spaventato parecchio questa cosa. Come funziona? Loro ti dicono carica tutta la tua vita dentro questo strumento, quindi mettici le fotografie, mettici tutti i documenti, mettici tutta la tua posta elettronica, immagini, la cronologia del tuo browser, la messaggistica che utilizzi, tutto. Darci tutto e da quel momento in poi Rewind diventa la tua memoria. Cioè tu gli chiedi le cose e lui te le dice, le sa. Quindi tu non ti ricordi la data di un compleanno, non ti ricordi la mail di un cliente, non ti ricordi un avvenimento che è successo, non ti ricordi la città in cui hai fatto una cosa. Come lui puoi accedere a tutto il tuo passato, dalle foto, alle mappie, alla cronologia, eccetera, ti dà sempre la risposta giusta. E a me sta cosa però fa cagare sotto, ve lo confesso. E se vi state chiedendo mala privacy e mala sicurezza, loro hanno un approccio un po' particolare perché non ti fanno caricare queste cose nel cloud. È un software che ti devi scaricare, quindi tutto quello che tu carichi rimane sul tuo hard disk. Lo salvano, lo cifrano e lo comprimono sul tuo hard disk. Ma a me comunque fa paura. L'undicesimo tool è quello che viene definito un text to space. Sapete, no, che adesso ci sono queste definizioni, quindi abbiamo i text to text, quindi da testo a testo come cagpt, oppure abbiamo i text to image, quindi per esempio come da lì, quindi testo immagini. Invece versi, che è il tool numero 11, è un text to space perché vi crea degli spazi, non saprei come altro dire, degli spazi, degli ambienti virtuali, dei mondi 3D fondamentalmente. Quindi lui potete scrivere una cosa tipo fammi una stanza di 15 metri quadrati e un salotto, mettici un divano verde, due finestre sui lati e lui ve lo crea in un click. È veramente una roba fuori di testa, cioè questo potrebbe essere la rivoluzione per alcuni settori, per alcuni lavori, immagino architetti, arredatori, designer, eccetera, eccetera, veramente, questo è uno di quegli tool che potrebbe cambiare il modo di fare certe cose. Il penultimo si chiama Leonardo e a me ha fatto veramente saltare dalla sedia, ma mai quanto l'ultimo, quindi aspettate ancora un po' che ci arriviamo. Leonardo cosa fa? Leonardo è un software di intelligenza artificiale specifico per chi crea videogiochi, perché vi può creare degli asset con un click e voi direte che sono gli asset, Raffaele? Gli asset è tutto quello che c'è all'interno di un videogioco, quindi ti serve un livello, ti servono delle armi, ti servono degli accessori, ti servono delle carte, ti servono degli scenari, eccetera, eccetera, tutti gli elementi che si utilizzano all'interno di un videogioco, voi li scrivete e lui ve li genera con un click. può partire o da template esistenti come fanno molte di queste app, oppure da una descrizione testuale come fanno molte di questi siti, oppure se volete, e questa è una cosa che io trovo estremamente interessante, potete caricare un'immagine, quindi uno sketch che magari avete fatto voi, che ha fatto l'artista del vostro team, eccetera, eccetera, e il tool parte da quello per generarvi l'asset. Le demo sul sito sono veramente mozzafiato. Il tredicesimo e ultimo sito è Clamoroso, si chiama NVIDIA Canvas, è un altro tool di NVIDIA, non è la prima volta che cito NVIDIA in queste liste, sta facendo veramente bella roba, ed è uno strumento che vi permette di disegnare delle bozze di paesaggi e poi le AI vi crea il passaggio bello, figo, dietro, in automatico. L'ho descritto veramente male, perché non so in che altro modo descrivo, dovreste veramente vederlo sul sito, cioè voi dovete avete presente i bambini di tre anni come disegnano oppure io come disegno perché io disegno in quel modo quindi veramente solo le strisciate di colore ok? Lui riconosce quello che state facendo e in automatico lo trasforma in un paesaggio quindi voi fate un pallino giallo nel cielo lui sa che quello è il sole bam vi fa un bellissimo sole al tramonto fate delle stecchettine marroni e verdi lui capisce che sono degli alberi e vi disegna degli alberi bellissimi avete preso il blu e avete colorato in basso con il blu lui intuisce che è il mare e vi fa una bellissima distesa d'acqua è veramente una roba clamorosa è fuori di te cioè qualsiasi mia descrizione non è all'altezza di quello che vedrete quando vi date un'occhiata sul sito veramente Nvidia sta lavorando molto 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 bene se vi è piaciuta questa lista recuperate assolutamente l'episodio numero 2 sul mio canale YouTube dove ci sono altre 13 app e siti web di intelligenza artificiale che sono letteralmente pazzeschi grazie a tutti grazie a tutti